Deve continuare questa striscia positiva che ha iniziato dopo la famigerata trasferta di Carrara. Modena-Padova non è una partita facile, però è una partita che Mauro Rabitti riesce a orientare subito bene perché conquista un calcio di rigore e la spinta c'è, vero Giovanni? Sì, direi che è nettissimo. È un po' leggero, quindi vola via. Vediamo che il rigore viene sbagliato e purtroppo la partita che si era orientata bene, però dopo non riesce. Il gol arriva per merito di Massimo Mezzini, un grande, vero? Un ragazzo eccezionale. Si è ritagliato un posto… Ma quell'anno tutti direi che, anche chi entrava, faceva mezza partita, due o tre partite, era pronto.